Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Che giornate di Pasqua e Pasquetta ci attenderanno? Direi che saranno all'insegna della variabilità, quindi con un tempo tipicamente primaverile e direi, fra virgolette, pazzerello, tipico delle giornate di marzo. Infatti vedete dalla grafica come l'anticiclone che si trova ora posizionato sulla Sardegna e sulla Sicilia nella giornata di domani garantirà ancora un ampio soleggiamento su gran parte del territorio italiano e anche sulla zona del nord Italia. Quindi nelle prime ore di domani avremo ancora questi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Ma ho anche indicato un fronte freddo. Vedete il fronte freddo che si trova posizionato fra la Francia e la penisola iberica si sposterà gradualmente in direzione proprio del nord Italia portando a un graduale peggioramento del tempo già a partire dalla giornata di Pasqua specie nella seconda parte della giornata. Non sarà un forte peggioramento, comunque arriveranno le nuvole sul nostro territorio e anche qualche locale piovasco potrà interessare le nostre zone orobiche. Poi come andrà nella giornata successiva, quella di Pasquetta, questa grafica indica le piogge cioè ovvero il colore verde e blu indica le precipitazioni più intense proprio nelle ore centrali di Pasquetta. Ecco la giornata di Pasquetta sarà un pochino più brutta rispetto alla giornata di Pasqua infatti ci saranno delle precipitazioni un pochino più organizzate sul nostro territorio non spaventiamoci, non saranno delle piogge continue diffuse però ci sarà la possibilità concreta di avere dei piovaschi già a partire dalla tarda mattinata di Pasquetta. Vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani quindi andiamo con ordine con Pasqua che indica una variabilità al mattino quindi nubi sparse alternate a schiarite con una tendenza al graduale peggioramento del tempo a partire dai settori più occidentali quindi dalla Val Brembana in propagazione nella tarda giornata anche la zona della Valle Seriana Val di Scalve e Val Camonica non abbiamo, non escludiamo proprio nelle ore centrali giornata pomeriggio e anche la sera qualche locale pioggia specie sui territori orobici più settentrionali che potrebbe portare anche qualche spruzzata di neve localmente oltre 1.500-1.700 metri di altitudine al di sotto invece avremo qualche locale piovigina nella zona del medio-bassa Valle Seriana e Lago di Sea abbiamo indicato delle nuvole nel pomeriggio sera di Pasqua ma non dovrebbero esserci delle precipitazioni abbiamo indicato la quota neve a 1.600-1.700 metri di altitudine e uno zero termico compreso intorno ai 2.000 metri di altitudine andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana Pasquetta abbiamo detto che Pasquetta sarà all'insegna dell'instabilità cosa vuol dire? che ci sarà occasione per qualche locale e fugace apertura qualche locale schiarita ma attenzione perché i piovaschi saranno dietro l'angolo quindi dotiamoci di un ombrello se faremo delle passeggiate in montagna o al lago soprattutto più probabili nelle ore centrali a giornata nevicherà in montagna qualche spruzzata di neve oltre i 1.500 metri di altitudine zero termico a 2.000 metri temperatura e collusione comprese fra i 4 e gli 11 gradi evoluzione per martedì ancora all'insegna della variabilità questo tempo di tipo primaverile non abbandona ancora il nostro territorio avremo locali piovaschi ancora nelle ore centrali della giornata con una tendenza però a un graduale miglioramento del tempo che si concretizzerà a partire da mercoledì quando arriveranno delle correnti piuttosto miti provenienti dal nord Africa che porteranno un generale miglioramento del tempo su gran parte del nostro territorio con temperature via via in graduale aumento fino a 14-15 gradi anche nella città di Clusone addirittura nella giornata di venerdì potremo toccare punte di 17-18 gradi con un bel tempo, un clima mite e punte a Clusone di 20-21 gradi in attesa di un prossimo fine settimana che potrebbe essere ancora in compagnia del sole e del clima mite e per il meteo è tutto ne approfitto per farvi gli auguri di una buona Pasqua e di una buona Pasquetta e vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2